La casa di Ronald sta come la seconda casa per mia figlia. Trovare, arrivare, aprire la porta, vedere quella camera, avere il comfort che può avere mia figlia è stato per me una gioia. Il sorriso di un bambino è tutto. Quando la mamma mi vede giù in sala pranzo e mi abbraccia e mi dice grazie Claudia per quello che fai. Da qua tutti i giorni festa? Grazie a tutti.